ciao ragazzi bentornati agli appuntamenti col venerdì della maglia oggi concludiamo la serie di incontri sul maglione col metodo contigus e la manica e campana e vi faccio vedere come andare a gestire come andare a formare la manica campana io qui vedete ho lavorato il mio progetto ovviamente ho iniziato la mia manica non l'andrò a fare per tutta la lunghezza perché ci metterei troppo tempo per farvi vedere quindi ne ho lavorato un po e vi faccio vedere come andare a chiudere voi potete fare la lunghezza che volete se volete un tre quarti una manica corta una manica più lunga quello che oggi vi faccio vedere riguarda proprio l'ultima parte cioè dove andiamo a stringere e diminuire in maniera netta il numero di maglia per poi formare un polsino quindi in modo tale che la manica cali immediatamente e ci venga quella classica forma a campana quindi una volta che voi avete deciso la vostra lunghezza e avete deciso che quella lì è la lunghezza ottimale del vostro capo non dovete fare altro che cominciare a diminuire il numero di maglie come lo andiamo a diminuire andandola a lavorare due alla volta insieme quindi per tutto il mio il mio giro andrò a lavorare praticamente le maglie tutte insieme due alla volta in questo modo calerò drasticamente il numero di maglie quindi cosa vorrà dire che otterrò la metà del mio numero di maglie rispetto al numero di maglie iniziale sostanzialmente quindi con un po di pazienza due alla volta sempre a dritto perché stiamo lavorando in circolare quindi pian pianino prendete e lavorate due maglie insieme a dritto in questo modo per tutta la lunghezza del vostro del vostro della vostra manica ok di pian pianino vi mettete lì e fate questo questa operazione così io adesso la lavoro tutta e ci vediamo dopo quando ho finito il mio giro quindi vedete finito il mio giro io ho ridotto drasticamente il mio numero di maglie sono diventate erano le mie erano 60 maglie sono diventate 30 quindi ricapitolando cosa abbiamo fatto una volta finito il nostro corpo sono andata a riprendere la manica come facciamo normalmente come già sapete fare se avete qualche dubbio potete guardare il video del cardigan bonton che vi fa vedere come riprendere le maniche le lavorate per la lunghezza che voi volete più lunga più corta decidete voi dopodiché quando avete capito che la lunghezza adatta per voi cosa fate andate a diminuire drasticamente il numero di maglie lavorando le due insieme quindi due a dritto insieme e otterrete questo risultato praticamente la manica si accorcerà tantissimo a questo punto si accorcerà ovviamente di diametro a questo punto io cosa vado a fare vado ad impostare un piccolo bordo a maglia coste 1 a 1 come ho fatto qui con il bordo vedete così diventa un po elastico quindi io mi imposto questo bordo e lo lavoro per qualche centimetro in modo tale da creare proprio la parte del più stretta che mi regalerà la manica a campana in questo caso io facendo la corta non ho fatto altro che creare una piccola manica a sbuffo quindi sarà è una mezza manica ma è di quella sbuffo stile abito di cenerentola per dire per farvi per farvi un esempio se sì un esempio semplice ma che possiate capire sempre il mio amico magic loop che mi aiuta a centrare i miei ferri nella maglia questo filato che ho scelto è un filato molto duro è quindi ho fatto un po fatica a lavorarlo bello perché è molto rigido quindi se volessi fare un giacchino rende però diciamo che è difficile da lavorare non è molto malleabile quindi io continuo in questo modo e ne faccio qualche giro ci vediamo fra un po che vi faccio vedere l'effetto ecco vedete il risultato finale qual è io adesso poi ho lavorato un pochino coste 1 a 1 vedete si è stretto qui e vi crea la manica a sbuffo quindi più larga che poi si stringe subito quindi qua quando andrò a chiudere la dimensione sarà questa qui e vi crea tutta la parte del niente dello sbuffo adesso questo è un filato molto rigido per cui si vede poco pensate ad un filato tipo un mohair oppure qualcosa di molto soffice che bell'effetto può fare quindi video anche questo piccolino per farvi solo vedere come lavorare questo tipo di manica ok quindi molto semplice basta sapare solo poi delle diminuzioni per creare l'arricciatura detto ciò io vi saluto vi do appuntamento al prossimo video che spero di fare presto e un bacione a tutte voi ciao